Ciao ragazze, questo è il video di cellulare, questo è il video dello swap che ho fatto con Elisa e prima di questo vi avrò pubblicato quando lei ovviamente avrà ricevuto il pacchetto quello che io le ho mandato, mentre oggi mi è arrivato il suo pacchetto e quindi lo andiamo ad aprire insieme allora come vi avevo detto nel video precedente e lei abbiamo deciso di mandarci tre creazioni fatte da noi scelte di cui vi rimando alla mia paginetta facebook perché lì ci sono tutte le creazioni disponibili per i swap più una creazione a sorpresa diciamo ecco qua tutto quello che mi ha mandato con questo bellissimo bigliettino con i didel ma li adoravo io quando alla scuola avevo il diario tempestato di didel bellissimo e mi ha scritto ciao grazie per avermi proposto questo swap mi ha fatto piacere conoscerti spero che le mie creazioni ti piacciono dolceleis87 perché questo è il nome del suo canale quindi vi linkerò sia al suo canale che anche alla sua paginetta facebook e così vedete anche voi tutte le vostre creazioni le vostre, le sue creazioni ok allora questa sorpresa quindi questo è sicuramente il pacchetto che ce la posso fare con le creazioni scelte da noi guardate che carina la carta il sole le stelline bellino vabbè iniziamo ad aprire vi appoggio un po' così allora faccio con una mano se no mi sa che non vedete niente adoro spacchettare le cose questo sì mi piaceva moltissimo questo bracciale ultimamente ne avrò 4 o 5 che me ne tengo sempre addosso di bracciali così con le perle molto semplici poi mi piaceva molto perché ha questo charms adoro charms lo sapete perché l'ho ripetuto in 3.000 video mi piaceva molto questa corona quindi lo metterò sicuramente tutti i giorni bello bello poi poi altro bracciale anche questo sempre scelto da me e voilà guardate che belle queste perle mi piacciono molto molto sono ultimamente questi braccialetti così li metto tantissimo per esempio quest'altro bel pacchetto anche qui con i fiorellini carissimo questo è il suo biglietto da visita The Island of Creation infatti è la sua paginetta facebook quindi questi sono tutti i suoi profili dove poterla contattare e qui abbiamo gli altri che sono in composè questi orecchini infatti ci speravo che mi mandasse questo composè con il bracciale quindi questa composizione sicuramente tutte le mattine la metterò grazie Elisa ok poi apriamo il pacchetto a sorpresa non voglio spaccare la carta ok vediamo io le avevo detto i colori magari che mi piacciono e poi avevo detto ovviamente che mi piacciono le robe pendagliose ciarmose infatti sento già dal rumore che bello oh io adoro ste robe così oh questi sono come gli smarties abbiamo questa perla viola perché le ho detto mi piace il viola mi piace il nero poi ho messo belline queste campanelline ma sono rumorosissime le ho detto che mi piacevano quelle pietre azzurre l'azzurro in generale che bello ha fatto veramente una composizione che mi rispecchia bello ah io adesso al lavoro starò tutto il giorno a fare così che bello mi piace tutto grazie Elisa niente spero che anche le mie creazioni ti piacciono ti mando un bacio e ci sentiamo presto ciao